Pude International è alla fiera di Carrara, abbiamo qua il nostro maestro Cangelosi e ci parlerà del programma nuovo della sua scuola. Allora, come da ormai 35 anni nella mia scuola si sviluppano vari corsi, siamo nati con il Kung Fu tradizionale, abbiamo sviluppato successivamente dei corsi specializzati per le pratiche interne di Tai Chi, Qigong e Tao In, abbiamo agganciato circa 20 anni fa anche un corso di Muay Thai, di Thai Boxing e stiamo sviluppando in questi ultimi anni un programma specializzato in particolar modo sul combattimento che noi lo definiamo Combat Freestyle. Questo è un programma che in realtà è sempre esistito all'interno della mia scuola, 30 anni fa io lo chiamavo tecnica in generale, cioè un qualcosa che esula e che si distacca dagli stili tradizionali, classici del Kung Fu. Io ho dedicato tutta la mia vita alle arti marziali e oltre alle specialità cinesi, quindi a tutto ciò che sono gli stili del Kung Fu, ho praticato alcune arti marziali giapponesi e in particolar modo anche la Muay Thai direttamente in Thailandia. Ho creato un programma mixando le tradizioni marziali cinesi, tailandesi e giapponesi. E qui a Carrara proprio per presentare questo programma? Sì, siamo qui a Carrara per svolgere alcune lezioni comunque che portano avanti il nostro discorso ormai 35 anni di finale di Kung Fu, ma in particolar modo per presentare questo Combat Freestyle. Abbiamo dato una sigla a tutto ciò che è la WMA, come Warrior Martial Art, Guerriano dell'arte marziale. Combat Freestyle è una sintesi delle principali tecniche estratte dagli stili di Kung Fu, dalla Muay Thai e dal Judo Jiu Jitsu giapponese, dove ho avuto per tanti anni esperienze in cui ho direttamente. Grazie al maestro Cangerosi, la lasciamo ai suoi allievi e a presto su Kudo. Grazie a Kudo International, arrivederci presto.